iniziamo ora la spiegazione dell'abito a tubino base si inizia sempre da un angolo retto un angolo retto con vertice in a abbiamo trovato il punto b qui stiamo trattando la mia taglia personale che di 48 la propria taglia si rileva mettendo il metro da sarta attorno al proprio torace sotto le ascelle ma sopra il seno e se ne prende la metà di questa circonferenza 11 e mezzo e segneremo la pence sul centro dietro in questo modo tracceremo la linea dalla linea del torace e a 4 centimetri dalla linea del torace tracceremo il nostro triangolino per la pence al centro della pence fino alla punta del seno sia la parte in nero che la parte in rosso cioè quella più lunga e quella più corta e di tutti e due andrò a chiudere la pence sulla spalla un'altra parte in grano un'altra parte in grano Grazie a tutti.